Sanità, il Piemonte chiede al Parlamento più risorse, educatori professionali approvati tre ordini del giorno a tutela del settore. 70 anni di scuola in carcere, in mostra all'URP del Consiglio regionale. Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati, più risorse per la sanità. Via Libera all'unanimità da parte dell'Aula, la proposta di legge al Parlamento mirata a vincolare gradualmente il 7,5% del PIL alla spesa sanitaria. Con una proposta di legge al Parlamento, presentata dalla Giunta e votata all'unanimità, il Consiglio regionale chiede di vincolare per legge a una percentuale non inferiore al 7,5% del PIL il finanziamento annuale del sistema sanitario nazionale, con un incremento graduale da qui al 2027. Il testo, ha spiegato l'assessore Luigi Icardi, è stato condiviso in conferenza delle regioni e sarà ora inviato alla Camera dei Deputati. C'è bisogno di pagare di più il personale sanitario, c'è bisogno di coprire le spese anche dei farmaci sempre crescenti, c'è bisogno di realizzare la medicina territoriale, quindi costi di strutture e costi di personale. Non possiamo permetterci di comprimere dei diritti fondamentali come quelli del diritto alla salute. Il relatore di maggioranza Alessandro Stecco lega. Oggi non ci sono abbastanza coperture, quindi non si riesce con i fondi attuali a dare risposte complete ai cittadini. Si creano delle disuguaglianze sociali, sanitarie e limitazioni di accesso o di accessibilità. Relatore di opposizione Raffaele Gallo, primo firmatario di un'analoga proposta di legge del Partito Democratico che chiedeva di applicare la percentuale del 7,5% già da quest'anno. Questo provvedimento non è stato votato. Con un ordine del giorno il capogruppo della Lega Alberto Preioni ha chiesto di non passare gli articoli essendo i due testi sostanzialmente analoghi. Abbiamo approvato questo testo della Giunta ma che sostanzialmente recepisce il testo di legge del Partito Democratico depositato a luglio e che manda un messaggio chiaro del Piemonte, quindi del Consiglio regionale al Parlamento proprio nei giorni in cui si discute la legge finanziaria. Il messaggio è quello di non tagliare il suo sistema sanitario ma di adeguare lo stanziamento del sistema sanitario a una percentuale della media europea, il 7,5% del PIL. Non basta avere maggiori risorse, ha sottolineato Domenico Ravetti, intervenuto a nome del gruppo PD, insieme a Domenico Rossi e a Diego Sarno. Dobbiamo impegnarci a utilizzarle meglio, intervenendo ad esempio sull'eccesso di visite e sul consumo dei farmaci. Per il capogruppo della Lega, Alberto Prejuni, obiettivo della legge è superare i vincoli imposti alle regioni per il personale per adeguarsi autonomamente al fabbisogno del proprio territorio regionale. Sean Sacco, Movimento 5 Stelle, ha evidenziato che in Piemonte chi rinuncia a una visita specialistica è passato dall'8,7% del 2019 al 15% del 2021 e il 45% delle visite specialistiche è fatto a pagamento. Il privato si sta sostituendo sempre di più al pubblico. Educatori professionali, approvati tre ordini del giorno che chiedono tutele per il settore. La figura e il ruolo degli educatori professionali, al centro di tre ordini del giorno approvati dall'Aula, due all'unanimità dei votanti e un terzo a larga maggioranza. Il primo, affirma Domenico Rossi, Partito Democratico, impegna la Giunta ad aprire un dialogo con consorzi identi gestori per individuare linee guida per la stesura degli appalti, con l'inserimento di clausole a tutela degli educatori professionali. Il secondo, proposto da Ivano Martinetti, Movimento 5 Stelle, impegna la Giunta a elaborare un percorso di provvedimenti condivisi con il Consiglio regionale per ovviare alle difficoltà del settore. Approvato infine a larga maggioranza il terzo documento, a prima firma Silvana Accossato, Liberi Uguali Verdi, che impegna la Giunta a fare proprie le istanze del Comitato per i diritti degli educatori professionali del Piemonte, riconoscimento delle ore in assenza dell'utente, spostamenti riconosciuti come tempo lavoro e rimborsi chilometrici, riconoscimento del lavoro intellettuale in diretto per la progettazione del percorso educativo e per la preparazione dei materiali. In conclusione, l'assessore Maurizio Marrone ha spiegato di condividere le preoccupazioni sulle condizioni di lavoro di figure irrinunciabili della catena di assistenza alle fragilità e ha assicurato sostegno ricordando che però non è la Regione il soggetto committente delle loro prestazioni, ma le cooperative e i consorsi degli enti gestori. Garantire una presenza omogenea sul territorio regionale dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Il tema è stato al centro dell'interrogazione che Silvana Accossato, Liberi Uguali Verdi, ha rivolto all'assessore alla sanità. Quali strumenti l'assessorato alla sanità intende utilizzare per favorire una presenza equilibrata sul territorio di medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta, per coprire in modo omogeneo tutte le aree del territorio, questa è l'interrogazione che la consigliera Silvana Accossato, Liberi Uguali Verdi, ha rivolto all'assessore alla sanità Luigi Icardi durante i question time. Rispetto alla carenza di medici, ha puntualizzato in aula l'assessore Icardi, la Regione Piemonte ha siglato un accordo integrativo regionale con le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale, che prevede che le ASL adottino soluzioni operative per garantire assistenza sanitaria ai cittadini rimasti privi del rispettivo medico attraverso medici e risorse proprie. La Regione ha prorogato inoltre la possibilità per i laureati in medicina generale di assumere incarichi provvisori o di sostituzione convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Azioni e iniziative analoghe, ha concluso l'assessore, sono state intraprese anche per quanto riguarda l'ambito dei medici pediatri di libera scelta. Compie 25 anni la scialuppa CRT Onlus, in prima linea a sostegno di famiglie e imprese per contrastare la piaga dell'usura. 25 anni di attività e impegno costante dei volontari. La Fondazione CRT ha ospitato il convegno dedicato al IV di secolo della Fondazione la scialuppa CRT Onlus, istituita nel 1998 per prevenire il fenomeno dell'usura in Piemonte e in Valle d'Aosta. Un'attività molto importante per il territorio torinese e piemontese perché dà supporto e sostegno a chi è in difficoltà per evitare di entrare nelle maglie dell'usura. La scialuppa CRT offre assistenza gratuita grazie a una quarantina di volontari e a 10 punti di ascolto sul territorio. Presta anche garanzia gratuita alle banche convenzionate per concedere finanziamenti a tasso agevolato a famiglie e piccole imprese in temporanea difficoltà in modo da rendere meno probabile il ricorso al prestito usurario. Abbiamo aiutato 17.000 famiglie. La scialuppa cerca tramite i suoi volontari di riportare in careggiata le famiglie in temporanea difficoltà. Dobbiamo fare in modo che questa attività assolutamente necessaria sia sempre più attiva per salvare delle persone, non lasciarle in mano la criminalità. Dall'inizio dell'attività la scialuppa CRT ha fornito assistenza gratuita a oltre 16.000 famiglie e imprese e deliberato circa 2.500 garanzie su finanziamenti per 43,6 milioni di euro. Riorientare l'esistenza dei detenuti attraverso lo studio e l'apprendimento di un lavoro. Una mostra allestita all'URP del Consiglio regionale celebra i 70 anni di scuola in carcere. Far conoscere all'opinione pubblica e alle istituzioni del territorio una pagina di storia di impegno civile e sociale. Così il garante regionale dei detenuti Bruno Mellano ha definito la mostra fotografica a 70 anni di scuola in carcere, visitabile fino al 19 novembre all'URP del Consiglio regionale in via Arsenale 14 a Torino. Fotografie, manifesti e manufatti che narrano la vita dei detenuti che grazie alla presenza dell'Istituto professionale Plana possono respirare in carcere esperienze di normalità e di arricchimento professionale. Questa esposizione rappresenta in modo ottimo la sinergia del territorio con il carcere. Si può fare, si deve fare un rapporto nuovo fra la società, la comunità e il mondo recluso. La nostra scuola ha una progettazione con diverse istituzioni presenti sul territorio. Una importante iniziativa è la collaborazione col Museo Ferroviario Permontese per il restauro di componenti in legno della carrozza del 1926 che si trova parcheggiata presso le officine del Museo Ferroviario. Per questa edizione è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci!